Acqua, l'oro del futuro. Benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole. L'acqua è una risorsa vitale per la sopravvivenza dell'umanità e della vita in generale sulla Terra. La sua carenza è un problema globale che sta diventando sempre più preoccupante. L'aumento della popolazione e lo sviluppo economico hanno portato ad una crescente domanda che mette a rischio la sua disponibilità per tutti. Insieme ai cambiamenti climatici, alla contaminazione e alla gestione inadeguata delle risorse idriche, fattori che hanno portato a una carenza di acqua in diverse parti del mondo. Secondo le Nazioni Unite, circa il 40% della popolazione mondiale è già colpita da una carenza di acqua e si stima che questa percentuale aumenterà a causa del cambiamento climatico e della crescita della popolazione. La maggior parte delle persone che vivono in queste aree affette si trovano nei paesi in via di sviluppo. La crescente domanda, il cambiamento climatico, la perdita di habitat e la crescente urbanizzazione stanno mettendo sotto pressione le risorse idriche. Le attività industriali e agricole hanno spesso un impatto negativo sulla qualità dell'acqua, rendendola inadatta per il consumo umano. Il cambiamento climatico, in particolare, sta portando a una riduzione delle risorse idriche disponibili sia in termini di quantità che di qualità. Le piogge si stanno concentrando in poche aree geografiche, mentre altre stanno diventando sempre più aride. La riduzione della quantità di acqua disponibile sta portando ad una maggiore competizione per le risorse idriche, sia tra gli esseri umani che per gli usi dell'acqua, come per l'agricoltura e per l'industria. Gli sviluppi futuri nel settore dell'acqua includono tecnologie innovative per la gestione e il suo trattamento, la conservazione delle risorse idriche, il riciclaggio delle acque e reflue e la desalinizzazione dell'acqua di mare. La raccolta dell'acqua piovana, la riparazione delle perdite d'acqua e la promozione di un uso più efficiente dell'acqua possono contribuire a ridurre l'acqua sprecata. Esistono diverse tecnologie innovative che possono aiutare a sfruttare meglio le risorse idriche esistenti. Ad esempio, la desalinizzazione può essere utilizzata per trasformare l'acqua di mare in acqua potabile, mentre la tecnologia di irrigazione a goccia può aiutare a ridurre il consumo di acqua nell'agricoltura. Nel settore del trattamento e della gestione delle acque ci sono diverse aziende importanti di tutto il mondo, tra cui Suez, una società francese che fornisce servizi di gestione dell'acqua e dei rifiuti in tutto il mondo. Veolia, un'altra società francese che offre servizi simili a quelli di Suez. Xilem è un'azienda americana specializzata nella gestione dell'acqua con un'ampia gamma di soluzioni di trattamento delle acque. Danaher, un'azienda sempre americana che offre soluzioni di gestione dell'acqua, tra cui strumenti per la sua analisi. Evoqua, un'azienda americana che offre soluzioni di trattamento dell'acqua, di depurazione e di gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda i paesi più all'avanguardia nel settore del trattamento e della gestione delle acque, ci sono molte nazioni che stanno facendo progressi significativi in questo campo. I Paesi Bassi, noti per le loro tecniche avanzate di gestione dell'acqua, tra cui la creazione di sistemi di dighe e di irrigazione. Il Giappone, uno dei paesi leader nella gestione delle risorse idriche, con una vasta gamma di tecnologie avanzate per il trattamento dell'acqua. Singapore è considerata una delle nazioni più innovative nel settore, con soluzioni come il sistema di riciclo dell'acqua New Water. Negli Stati Uniti ci sono molte aziende e organizzazioni che stanno lavorando per sviluppare nuove tecnologie e approcci innovativi per la gestione delle risorse idriche. Come la Germania e anche Israele sono note per le loro tecnologie avanzate di depurazione dell'acqua, come la tecnologia del fango attivo e la desalinizzazione dell'acqua di mare. Molti Paesi stanno facendo progressi significativi, grazie all'attenzione crescente sulla sostenibilità ambientale e alla necessità di utilizzare le risorse idriche in modo più efficiente. Ci sono molte cose che si possono fare per migliorare i processi di trattamento e gestione delle acque. Migliorare la raccolta di dati accurati e affidabili è essenziale per comprendere le esigenze di trattamento delle acque e per sviluppare soluzioni di gestione efficaci. Ciò richiede investimenti in tecnologie di rilevamento e monitoraggio dell'acqua, nonché in sistemi di gestione dei dati avanzati. Utilizzare l'uso di tecnologie avanzate come la purificazione dell'acqua tramite osmosi inversa, la disinfezione con raggi UV e l'ossidazione avanzata possono migliorare significativamente la qualità dell'acqua trattata e ridurre il consumo di energia. Migliorare l'efficienza energetica. L'energia è un costo significativo nella gestione dell'acqua e quindi migliorare i processi di trattamento e gestione può ridurre i costi operativi e l'impatto ambientale. Investire in ricerca e sviluppo per sviluppare nuove tecnologie e approcci innovativi alla gestione dell'acqua può migliorare l'efficienza, ridurre i costi e migliorare la qualità dell'acqua. Coinvolgere la comunità nella gestione dell'acqua e nella promozione dell'uso consapevole delle risorse idriche può aumentare la consapevolezza e la comprensione dei problemi legati alla gestione dell'acqua e portare a soluzioni più sostenibili. In Italia ci sono diverse aziende che operano nel settore dell'acqua. Il gruppo CEA è una delle principali aziende di servizi idrici in Italia. Opera nella fornitura di acqua potabile, nella gestione delle reti di fognatura e nella depurazione delle acque reflue. Hera Group, leader nella gestione dei servizi pubblici locali che include la gestione delle risorse idriche, della raccolta dei rifiuti e dell'energia. Il gruppo CAP si occupa della gestione dei servizi idrici nella provincia di Milano. Opera nella fornitura di acqua potabile, nella gestione delle reti di fognatura e nella depurazione delle acque reflue. CEA Gas APS AMGA gestisce i servizi idrici nella città di Trieste e nelle province circostanti. Si occupa della fornitura di acqua potabile, della gestione delle reti di fognatura e della depurazione delle acque reflue. Edison S.P.A. attiva nella produzione e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, ma ha anche un'importante divisione per la gestione delle risorse idriche. Queste sono solo alcune delle principali aziende che operano in questo settore in Italia. Ci sono anche molte altre aziende più piccole e start-up a livello internazionale che stanno sviluppando soluzioni innovative per affrontare la carenza di acqua e che potrebbero rappresentare opportunità di investimento interessanti. Migliorare i processi di trattamento e gestione dell'acqua richiede una combinazione di investimenti in tecnologie avanzate, innovazione, efficienza energetica e coinvolgimento della comunità. L'acqua è il bene più prezioso che abbiamo e lo sarà sempre di più. La citazione di oggi è la seguente. Più ci saranno gocce d'acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza. Madre Teresa di Calcutta. Rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto. Potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili. Grazie a tutti.